Siamo a Piazzetta Immacolata, sta per avere inizio uno spettacolo teatrale della compagnia Satirius, accanto a me i due organizzatori. Allora, di cosa parla questo spettacolo che sta per avere inizio? Allora, questo spettacolo è organizzato in nove sketch, tutti divertentissimi, dal primo all'ultimo. E questi sketch sono organizzati in maniera tale da portare la risata tra il pubblico e quindi mettere da parte almeno per una serata la tristezza e quindi portare avanti l'allegria. Perché con la spensieratezza e con l'allegria che si può mettere in primo piano nella vita, la risata è alla base di tutto, quindi più uno si diverte, maggiore l'entusiasmo e quindi la voglia di fare. Questo spettacolo, come dicevo, è organizzato in nove sketch, che si aprirà con l'apertura della scuola di ballo Meridense. Successivamente alla scuola di ballo ci sarà appunto la presentazione fatta dalla nostra presentatrice Laria Saladino. Successivamente alla presentazione ci saranno, a termine dei vari sketch, ci sarà un ulteriore ringraziamento a tutti gli sponsor e a tutte le persone che ci hanno sostenuto, compreso l'associazione CPAS Caccia, Pesca, Ambiente e Sport. Che altro dire, questo è tutto quello che abbiamo da dire, ringraziamo veramente tutti, a partire dagli sponsor fino ad arrivare al pubblico e alle persone che ci hanno sostenuto fino all'ultimo momento. La vostra è una compagnia fatta di giovanissimi, come è articolata? Allora, noi siamo dei ragazzi che ci siamo riuniti appunto per creare questa compagnia Satirus. Il nostro obiettivo è portare avanti la passione del teatro, divulgandola e non rimanendo solamente in questa piccola piazza, ma andando anche oltre. Ringrazio l'amministrazione comunale per quello che ci ha dato, come diceva poco fa il mio amico, anche gli sponsor e soprattutto che hanno contribuito moltissimo per far sì che questa serata si svolgesse. Siamo dei ragazzi, siamo emozionati. L'anno prossimo speriamo di rifare questa esperienza, anche grazie all'associazione del signo Stassi. C'è chi ha già fatto teatro e chi invece ha le prime armi, diciamo. Comunque c'è uno spirito di collaborazione e un'empatia tra i ragazzi che può portare a fare la qualsiasi cosa. Un'ultima cosa, ringraziamo la regia di Mario Passalacqua, il service audio e luci e meson della music. Grazie. Alessio Curti.